Un saluto dal Tg della mobilità, via di lavori di riqualificazione della tangenziale est della sopraelevata della circonverazione Tiburtina tra Largo Passamonti e Viale Castrenze. La durata prevista del cantiere è di circa 8 mesi, nel solo periodo sino al 30 agosto saranno effettuate delle chiusure a tratte. La prima fase interesserà la rampa di via del Pigneto in uscita, con chiusura dal 24 giugno al 30 giugno. A seguire toccherà la rampa di via Prenestina in entrata, con chiusura dal 1 al 15 luglio, mentre la terza fase coinvolgerà la rampa di Prenestina in uscita, con chiusura dal 16 al 31 luglio. Gli ultimi due tratti saranno quelli del viadotto inferiore, da San Giovanni a Tiburtina, con chiusura dal 1 al 15 agosto e poi del viadotto superiore da Tiburtina a San Giovanni, con chiusura dal 16 al 30 agosto. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.